buonasera della redazione sono state proprio le televisioni locali fino anni 70 inizio anni 80 a lanciare in nazionale le attuali trasmissioni di intrattenimento contenitori che le vedete alla mattina grazie a importanti professionisti della televisione italiana noi ne abbiamo avvicinato uno lui si chiama barte carbone subito dopo la sigla d'inizio gentili telespettatori anche radioscoltori per loro ci seguono dalle radio un cordiale saluto da massimo bonella qui in padova insieme a un volto notissimo della televisione italiano non è vero valte carbone abbiamo qui si ma si tristemente nota a me fa molto piacere questa tua chiacchierata questo voler chiacchierare con me saluto tutti cosa vi devo dire poi sono qua con ho cercato di bleffare di abbellire un po no perché ho dei grandi capori di artisti contemporanei questo per poter dimmi tutto ecco diciamo che tu provieni praticamente da quella che noi valutiamo tantissimo la televisione regionale degli anni dell'inizio degli anni ottanta ricordiamo ad esempio trivenet e poi dagli rta eccetera ecco possiamo quindi spiegare ai telespettatori come ti sei avvicinato al mondo della televisione noi sappiamo tra altre cose che provieni più precisamente dal commerciale ecco raccontiamo un po così l'avvicinamento ai mass media all'epoca nuovi mass media che si abbracciava il discorso commerciale per poi finanziare la televisione io ho visto la nascita niente io vengo da antiquariato in pratica avevo un negozio qua a padova d'arte e poi ho cominciato mi appassionava a fare le aste e cominciai a fare le aste in quel diabano termine parlavamo prima e cominciarono le prime televisioni private io mi ricordo orfino mi ricordo dei nomi che adesso il barone lo cocco per esempio ricordiamo un po giorgio cannata ricordo poi cattore gabbia sempre a tre veneta con te se non sbaglio dopo e credendo ho sempre creduto in quello che ho fatto e che faccio e ho sempre cercato di propormi verso il pubblico nella stessa maniera in cui io mi possa porre rispetto a chi vuol vendermi qualcosa per cui sempre cercando di prendermi la responsabilità di quello che dico e di non dare fregature poi alla fine in sintesi e questo è per cui quando mi dicevano ma vai in televisione a vendere tappeti perché siccome il tappeto la base per poter acquistare un tappeto è toccarlo e vedere i nodi e tutto il resto dico ma ti sembra che ci sia gente così ingenua da acquistare tappeti per televisione per cui sono arrivato in televisione per ultimo rispetto ai televidenti un anno dopo un anno e mezzo e lì invece mi sono accorto che e da quel momento ho cercato sempre di fare poi delle proprio perché mi piace pormi presuntosamente forse nelle nei panni di chi guarda la televisione commerciale e non di chi la fa ho cominciato a pensare che ovviamente è stata un percorso lungo che di voler annoiare meno il pubblico che guarda una trasmissione che poi diventa monotematica che è basata sulla simpatia o l'antipatia di del presentatore che del venditore dell'immonitore chiamato come mi pare ho cercato sempre di fare qualcosa di diverso a triveneta vedi monitor vedi tante altre cose che adesso non me le ricordo per cercare di annoiare meno e insomma adesso non so come dirlo ma comunque qualunque cosa io facessi poi arrivavo sempre ad essere insomma uno di quelli bravi ma io credo che sbagliassero insomma è così e poi da lì appunto dai tappeti vabbè poi e lasciai stare l'antiquariato e tutto passai a rete a a rete a mi ricordo l'incontro con calderola calderola che è stato il direttore commerciale di rete a per tanti anni e che chiamò agli azzone perché io quando vendero tappeti ci mettevo l'anima come in tutto e a volte urlavo mamma compra o tu insomma delle cose così questo chiamò agli azzone il suo qua un mostro e vedi di vederlo qua e là e lui mi disse appunto che mi avrebbe provato con 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 io vedevo di agli azzone ai tempi era all'inizio guido angeli che vendeva la poltrona a 100 mila lire e l'unica cosa che sapevo dei mobili di agli azzone era sta poltrona a 100 mila lire e lavoravo sempre qua a triveneta in via di giovane per i coni tappeti ero diventato il partner di case nell'editore insomma vabbè quando andai la lui mi disse calderola mi raccomando carbone guarda io mi sono impegnato con giorgio detto che tu sei il migliore di tutti il mostro bu 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 mi raccomando cerca di fare più di 60 telefonate perché qua guido angeli fa 60 io la guarda ed istimato io faccio 70 80 telefonate a triveneta che è regionale rete ara nazionale e infatti la prima trasmissione facemmo più di 300 telefonate, le telefonate sono le pseudo ordinazioni in pratica per chi non ha addettato ai lavori e come le feci? da lì nacque poi la storia del legno massello perché io provenendo dall'antiquariato non pensavo ci fossero mobili fatti in ma adesso tutti i nomi tecnici, nomi di incompensato multistrato, melamine che ne so io, no io pensavo al legno che ne so io, e infatti li battevo no facevo, che poi portate e io mi ricordo che non sapendo mi misero su una poltrona, mi misero una telecamera, Dolly, sai quelli che si muovono in faccia, mi chiedono un affare e lì su questo affare ce l'avevo scritto e cominciai a dire guardate che se questi si accorgono a quanto vendono i mobili non ve li danno più e lì facemmo subito questa cosa e qui nasce diciamo cambio direzione vado da Iazzone, però questo poi mi ha portato quindi dal regionale si passa al nazionale RTA non avendo lasciato la Cash and Carpe con i tappeti perché è un consiglio di tappeti che in nazionale noi facciamo già i tappeti con la Cash and Carpe ma faceva anche Iazzone con Iazzone arriva la grande fra virgolette televisione nel senso che io comincio a fare Iazzone in maniera diversa io mi ricordo che prendevo il copione lo buttavo per terra dicevo io sono qua a sudare per farvi fare degli affari dovreste essere voi a pregare me e lì nacque poi anche la non vendita loro fecero poi alcuni fecero delle vabbè comunque fecero chi studiava marketing chi studiava modo di vendita c'era il metodo carbone che era l'avano battezzato la non vendita perché io dicevo dovreste essere voi a venire a pregare me e da lì poi nasce un pochino la situazione che mi ha portato il Rai per cui diciamo che io ho sempre cercato e avendo poi ragione non riesco a capire perché quelli che oggi fanno grandi trasmissioni di vendita non lo facciano di televendita non lo facciano di portare non lo spettacolo perché sarebbe troppo come dire presuntuoso ma l'intrattenimento ecco questo è un punto che mi interessa cioè creare degli spazi anche per la fine informativi anche culturali insieme alla vendita o anche di arte quindi dare un po' come dire delle spiegazioni fare cultura e infatti io poi ho tentato prima con la musica poi io mi ricordo che l'ho scomparso Bevilacqua che è stato ospite mia in una trasmissione di mobili voglio dire uno scritto per quanto riguarda lo sport con l'aiuto del grande Maurizio Mosca a Rete A vendevamo mobili per il calzone io presi Mosca un quarto d'ora parlava di calcio per esempio tante adesso non me le ricordo tutte perché poi sono cose che io faccio molto leggermente in maniera perché mi divertissero non mi annoiassero e soprattutto non annoiassero chi guardava questo libro perché io sono sempre stato convinto che in televisione si possono fare dei grandi affari nel senso che è chiaro che la televisione quando vende qualcosa lo vende e poggia sui grandi numeri allora è normale un'equazione abbastanza facile se io se io devo guadagnare mille lire al giorno per restare con la lira posso guadagnarle o vendendo due articoli in un giorno e guadagnando i 500 ogni articolo oppure vendendo 100 articoli a 10 lire di guadagno ecco la televisione più o meno è a metà fra i 500 per cui se l'azienda è seria e ce ne sono e ce ne sono state delle aziende serie si può veramente fare degli affari le pellicce prima una volta erano appannaggio solo dei ricchi se non c'era Rocco Pellicceria come si chiamava quello là e lui ha portato la volgarizzazione della pelliccia per esempio i gioielli con la SM una volta era un appannaggio di pochi ma tante cose adesso non me le ricordo ma tantissime cose grazie alla televisione commerciale i tappeti persiani che si pensava che soltanto i ricchi potessero certo finché si vendivano 20 tappeti al giorno in Italia è chiaro che costavano un miliardo quando hanno cominciato a venderne 20.000 al giorno sono costati meno però purtroppo accanto a questi pionieri integerri miseri professionali arrivavano poi i parassiti cioè coloro che i furbi sfruttavano l'idea facevano truffe e dopo in televisione tu me lo insegni di tutta erba si fa un fascio dunque se uno ruba cioè voglio dire se io in una mia carriera non cercavo mai di non fregare nessuno basta che frego uno un giorno e si dimentica tutto ciò ed è la verità e questo è quello che è successo secondo me alla televisione commerciale è successo è successo Grazie a tutti